civil week 2024 siamo a vignate zona martesana insieme a paola una volontaria davvero tenace che insieme a tanti altri genitori ed ex genitori fa parte dell'associazione genitori a ps del comprensorio di vignate quindi nido materna elementare e secondaria giusto paola e che cosa siamo qui a fare oggi per la civil week allora siamo qui a cercare di sensibilizzare i bambini sul fatto di tenere puliti i luoghi che tutti noi frequentiamo perché sono tutti casa nostra siamo infatti in uno dei tre parchi pubblici intorno alla scuola e infatti tutti i volontari del comitato sono dislocati insieme ai bambini genitori e nonni per pulire questo luogo voi siete una realtà di volontari super tenace che ormai da dieci anni rispondendo anche ai bisogni della quotidianità ma anche ad alcune esigenze che vi propone l'amministrazione comunale con cui ci sono ottimi rapporti lavorate in rete che cosa fate? Noi facciamo progetti per la cittadinanza per i bambini abbiamo un progetto compiti che parte a ottobre finisce a maggio facciamo incontri genitori facciamo feste perché quando c'è la festa della redenzione noi abbiamo sempre il laboratorio per i bambini e adesso per esempio una cosa che ci ha preso tantissimo è una raccolta fondi online su una piattaforma Ginger in cui stiamo raccogliendo fondi per far partire a settembre ottobre un corso di attività motoria per bambini disabili disabili più gravi di quelli che possono fare comunque qualunque attività sportiva abbiamo raggiunto l'obiettivo per poter pagare tre mesi di corso ma andiamo avanti la raccolta fondi sperando di raggiungere l'obiettivo successivo che sono sei mesi Senti, insomma tutto questo volontariato perché tutta opera del volontariato una domanda ci sorge spontanea chi te lo fa fare? L'amore per la gente, per i bambini, mi piace fare qualcosa per far funzionare meglio tutto quello che ho intorno per cui io ho i figli grandi, io sono una fortunata che oramai avendo i figli grandi a tanto tempo sono diventata Presidente dell'Associazione anche per quello e mi piace che le cose funzionino quindi quello che posso fare lo faccio Grazie Paola, buon lavoro e buona Civil Week Grazie mille Grazie a tutti